Monte Manfrey lo si trova lungo la strada che dal passo del Turchino conduce prima al passo del Faialo e poi discendendo verso Vara Superiore ne raggiunge le propaggini. Per dare completezza dei principali fatti riguardanti la guerra civile in provincia di Genova, ci pare giusto che il lettore venga anche a conoscenza di questo capitolo, di cui non è ancora oggi ben chiara sia la vastità che le responsabilità ad esso connesse. Monte Manfrey, per chi come noi ha vissuto il dopoguerra con l'eco delle stragi nell'orecchio e la demonizzazione successiva della nostra storia, ha un significato fosco e pauroso insieme. Ti hanno insegnato la testa a piegare, tanto non hai nulla da ammirare. Già nei giorni successivi la guerra si sussurrava di una mattanza accaduta nella zona del passo del Faialo. Ricordi personali dicono che per nascondere tale scempio si era fatta esplodere una collinetta per celare sotto i detriti l'orribile fatto. Successivamente, poche precise testimonianze provenienti da testimoni e da documenti ricavati dagli archivi della Curia di Acquiterme, cominciarono a delineare più precisamente i fatti. Si trattava di oltre 200 marò della San Marco, tutti militari estremamente giovani, in parte fatti prigionieri grazie ad un ufficiale che trattò il disarmo con i partigiani e che sparì nel nulla, salvandosi. A fianco dei militari fu imprigionata una piccola quota di personale civile, interpreti e impiegati amministrativi, oltre a numerosi soldati germanici, tutti portati nell'alta valle e poi trucidati, seppelliti perfino nelle mangiatoie delle cascine abbandonate. Dalla valle dell'Orba li concentrarono l'albergo a Penino di Palo e poi, da Palo, transitando per Vereira e Pianpaludo, li condussero verso l'area inferiore, da dove, per una mulattiera tra i boschi, giunsero nella casa denominata Villa del Rostiolo, in località La Romana. Ti hanno insegnato a non pensare, tanto non vai, nulla da negare. Altri, per giungere alla Villa del Rostiolo, vennero condotti lungo la provinciale che da Rossiglione porta a Martina, Urbe, San Pietro. Per almeno 48 ore rimasero lari inchiusi, per dare il tempo di preparare, presso i luoghi delle esecuzioni, le fosse per seppellire i morti. Prima dell'alba e per le 24 ore successive, vennero avviati a gruppi verso le zone situate tra la località La Romana e il Passo del Faiallo. Avevano le mani legate ed una corda ai piedi, che ne limitava al passo, e raggiunsero le varie località attraverso la zona del Dao, per evitare i vicini abitati di Vara Inferiore e Superiore. Proprio lì, vennero falciati dalle mitragliatrici, già precedentemente predisposte allo scopo. Le fosse rettangolari erano state scavate nel sottobosco, e poi facilmente mimetizzate con le foglie che ricoprivano il terreno. Ma non tutti i prigionieri morirono di piombo. Molti furono finiti con il calcio dei fucili, ed alcuni seppelliti vivi, come accertarono i carabinieri che, anni dopo, eseguirono le esumazioni. I documenti della divisione San Marco, pur inserendo i caduti del Manfrey nell'elenco degli ignoti, non dicono di più. La compagnia a comando regimentale del V Regimento viene considerata perduta corpo e beni durante la ritirata per Acquiterme, e si parla, in poche righe, della sorte dei Maroc. Si dice solo che vengono disarmati in cambio della promessa di aver salva la vita. La strage di Monte Manfrey, ed il mistero delle fosse, non tutte identificate, ebbero scarsa risonanza in quel dopoguerra tutto teso a minimizzare le stragi e le atrocità commesse dai partigiani. Rimangono, testimonianze macabre ed eloquenti, le disposizioni dei sindaci della zona, che ancora per lunghi anni vietarono la raccolta dei frutti di bosco per la presenza di salme affioranti e di fosse contenenti resti umani. Nel dopoguerra, il sindaco di Urbe, dottor Giulio Zunini, d'intesa con la signora,